Tutti conosciamo il significato delle parole silenzio oppure buio. Le conosciamo perché sin da piccoli abbiamo imparato a conoscerle, a conoscerle, a distinguerle. Eppure vi assicuro che queste parole possono avere anche delle accezioni differenti. Ad esempio possiamo trovarci di fronte a un silenzio tale da essere assordante. Oppure un buio, un buio così estremo, un buio primordiale, da risultare accecante, addirittura da mettere un baglione. Dei bagliori, bagliori di luce, no, bagliori di buio. Proprio per questo che ho voluto intitolare il mio romanzo, il mio primo romanzo con questo titolo. Pubblicato di recente con casa editrice Montag, Montag Edizioni. E di cosa parla? Beh, il protagonista di questo romanzo si chiama Johnny. Johnny è un ragazzo, diciamo come tanti, no? E si svolge negli Stati Uniti la storia, la narrazione. Comunque Johnny è un ragazzo come tanti, anche se alle spalle ha un passato difficile. Un passato che purtroppo lo ha messo in condizioni, sin da piccolo, in condizioni molto particolari. Perché ha perso, ahimè, ha perso i genitori in un tragico incidente. E quindi sicuramente la vita lo porta, lo mette in condizioni di crescere prima degli altri, insomma. Gli presenta purtroppo un conto difficile da accettare, soprattutto per, diciamo, un bambino così piccolo. Eppure riuscirà, diciamo, seppur non in maniera facile, con molte difficoltà, riuscirà a trovare, diciamo, il suo posto nella società, un riscatto, a riscattarsi. E a trovare quella che è anche un po' di serenità. A un certo punto della sua vita, però, la vita gli presenterà nuovamente il conto, se così vogliamo dire. E lo metterà di fronte a delle nuove sfide. Lui troverà, si dovrà trovare quella che è una nuova collocazione nella sua vita. affronterà sicuramente un percorso difficile, pieno di ostacoli. E' un percorso, io direi, introspettivo, quello che può essere introspettivo per ognuno di noi. Questo perché ci porta a... La vita tante volte va affrontata, anche a muso duro. Quando le cose sembrano difficili, è proprio lì che dobbiamo tirare fuori tutto quello che abbiamo. E quindi, affrontare quelle che sono le nostre paure, affrontarle e sconfiggerle. E aggiungerei anche, accettare i nostri limiti laddove sappiamo e riconosciamo che li abbiamo. Lui si troverà catapultato, diciamo, in... Io lo chiamo il tartaro. Un inferno sotterraneo, ed è da lì che intitolo il mio libro Bagliore di buio. Quindi questa nuova dimensione, una dimensione che ha di terreno, ma anche un po' di ultraterreno. E poi, senza chiaramente fare degli spoiler, chi vorrà immergersi in questo percorso, in questa storia, capirà il perché di queste parole, di questo titolo. Il tartaro, poi lui conoscerà delle persone, dei personaggi enigmatici, amici, ma a un doppio volto. Che lo metteranno a faccia a faccia anche con il proprio passato. Quindi un passato che ritorna fortemente, prepotentemente. E io mi chiamo Luigi Fabbi, ho 43 anni e sono di Roma. E che dire su di me? Ma non voglio, diciamo, allungare il brodo con cose che magari potrebbero annoiarvi. Diciamo che sono... Quello che conta che sappiate è che mi è sempre piaciuto il mondo, diciamo, dell'occulto, dei misteri irrisolti. E sono un amante non solo della scrittura, della lettura, ma mi piace anche il mondo del cinema. Più che altro quando il cinema rappresentava un po' più la settima arte. Adesso, purtroppo, probabilmente, per il periodo che stiamo vivendo, forse, un po' meno, si basa un po' più sulla quantità che sulla qualità. Sono amante del Sud America, perché la mia compagna poi viene da là, dall'Ecuador. E quindi sicuramente è un paese meraviglioso, che mi ha dato la possibilità di conoscere tanti aspetti, anche molto diversi, legati a quelle che sono poi, no, le nostre vite occidentali. Quindi mi ha fatto capire, comprendere, che tante cose che noi diamo per scontato in altri posti della Terra non lo sono. Io finisco, diciamo così, questa presentazione ringraziando tutto il blog della Gilda dei Lettori, ringraziando in primis Marco Schifilliti della bellissima possibilità che mi ha concesso, in primis lui, ma anche Sara Coppola, con la quale, diciamo, mi sono interfacciato per farmi questa promozione e anche tutto lo staff, tutte le persone del blog che non conosco, ma sono sicuro che faranno, che fanno veramente un ottimo lavoro. Vi invito a leggere la recensione del blog. Io li ringrazio veramente, perché se, di cuore, perché voglio dire questo, se forse non sono una unicità in questo, diciamo, in questo ambito, sicuramente rappresentano veramente quella che è una rarità. Perché dare la possibilità a, diciamo così, chi scrive, chi si affaccia, si è appena affacciato nel mondo della scrittura, sa benissimo che è molto difficile trovare degli spazi di promozione, di pubblicità, come li volete chiamare. È molto difficile, quindi, trovare veramente delle persone professioniste, professionali, che credono, quindi, no, che puntano, insomma, sulle risorse, diciamo, su quello, sul capitale umano, se così vogliamo dire. è veramente molto raro al giorno d'oggi. Quindi io veramente ringrazio di cuore tutti loro di questa bellissima opportunità che mi hanno concesso. E niente, che dire, leggetevi sicuramente, se siete interessati, la recensione. Questo è un libro, non l'ho specificato prima, ma, diciamo, il genere è un po' un ibrido, perché va dall'horror, al fantasy e alla fantascienza. È difficile, diciamo, catalogare, ho difficoltà a catalogarlo in un ambito ben preciso, perché, secondo me, prende un po' tutti questi settori di cui vi ho appena parlato. Quindi sicuramente a chi piace uno o più di questi generi, sicuramente questa è una lettura che può fare al caso vostro. Poi, comunque, il romanzo è molto scorrevole, sono circa 200 pagine, quindi, diciamo, non è un mattone. Si legge con scorrevolezza, però poi, chiaramente, non spetta a me dire altro, perché è giusto che poi il giudice non posso e non voglio essere io, ma, chiaramente, questo è un aspetto che spetta, appunto, scusate, gioco di parole, ai lettori. Loro sono i giudici, insomma, di tutto ciò. Io ringrazio ancora la gilda dei lettori e ringrazio a tutti voi per l'opportunità e per il tempo che mi avete concesso. Ciao, grazie ancora.